Nella sfortuna a volte si è fortuna. Scriverete per la Gabriele. Morta mi volete! Se c'è una che conosce le regole della musica e della poesia, quella sono io. Scriverai la mia prossima opera. Siete in pericolo, amico mio. Ci sono anche un po' di ehrenhafti, ma... ...so non possono. Ma questi cambiano in loro. Più sentimenti, più interiorità. Questo vuole il nostro presente. Avete un gran talento. Non potete rompere così la nostra amicizia. Mi sono ingannato, sono io a destino. Come maestra, sono finito. Wolfgang, basta! Non buttarti sul signor Misdiveritschek in questo modo.